Nonostante sia accaduta in pieno periodo estivo, la norma inserita nel decreto del fare che prevede la riduzione del 30% dell'importo delle multe per automobilisti indisciplinati ma veloci nel saldare i conti, è stata resa prontamente operativa dai comandi provinciali di Polizia Municipale Stradale. Lo sconto della multa è pari a un terzo dell'importo per chi salda i conti entro 5 giorni dalla ricevuta del verbale. Attenzione però, lo sconto non vale per tutti i tipi di multe, sia a Pistoia che a Montecatini il taglio del 30% della sanzione è applicabile solo sulle multe fatte dal 21 in poi e non sulle sanzioni in pendenza non ancora notificate. Farà fede il giorno in cui l'infrazione è stata commessa. Non ci sarà nessuna riduzione delle sanzioni per cui è prevista anche la confisca del veicolo, la sospensione della patente, sanzioni gravi quali la mancanza dell'assicurazione, la mancanza dell'immatricolazione ma anche l'eccessiva velocità che porti ad infrangere nettamente i limiti imposti dal codice e naturalmente la guida in stato di ebrezza. Sono escluse dallo sconto anche tutte quelle multe per cui già precedentemente non era consentito il pagamento in misura ridotta, come ad esempio il mancato rispetto dell'obbligo di fermarsi o di esibire i documenti. Gli agenti sono già stati dotati del doppio tariffario, si può pagare tramite bollettino o in banca, basta non fare oltrepassare i 5 giorni dalla notifica. Non c'è comunque da essere troppo contenti, il provvedimento serve soprattutto allo Stato per far cassa. Considerato che spesso le multe non vengono pagate, la riduzione dovrebbe essere un incentivo non da poco a saldare il debito.